L'occupazione a Siena affonda le radici sempre più nel commercio e nella distribuzione cooperativa, specie nel caso in cui un marchio storico radicato sul territorio da decenni è capace di rinnovarsi secondo le esigenze del cliente. È il caso del punto vendita a Coop Firenze Le Grondaie, che dopo 37 anni dall'apertura si è rinnovato e apre le porte a clienti con una veste accogliente e funzionale. In questo punto vendita a livello occupazionale ci lavora quasi 200 persone, ha un fatturato importante, spero che sia un negozio che sia d'attrazione, è stato fatto un negozio con numerosi spazi soprattutto per creare fruibilità e viabilità per chi viene a fare la spesa. A guadagnarne in termini di occupazione è anche l'indotto, ampliata infatti la gamma di prodotti sugli scaffali che saranno made in Siena. Il resto del punto di vendita è caratterizzato da una revisione importante degli assortimenti facendo sempre perno sul prodotto locale e sul rapporto con il territorio.